Quanto è bella la Sicilia! Dove siamo? Siamo a Porto Paglio di Cucupassero, e lì c'è l'isola di Cucupassero. È bello vedere che i lavori vanno avanti, perché l'avevamo visto in costruzione, ma questa strada finalmente è stata fatta. È bellissimo ragazzi, anche se siamo quasi già all'imbrunire inoltrato, devo dire che lo scenario è bellissimo, anche perché qui c'è il castello, nella passeggiata di Porto Paglio di Cucupassero, venire qua è stupendo, guardate che mare che c'è. Poi stasera c'è un concerto, quindi adesso andremo a sentire un po' di musica, a mangiarci un gelato. Lo ricordiamo sempre ragazzi, Porto Paglio di Cucupassero è sempre una meraviglia, è sempre più bella, complimenti veramente, è bello, bello, venite a trovarli. Grazie a tutti.